Mi viene in mente quella barzetta che c'è il cardinale, praticamente un cardinale che era dell'altra parrocchia. Allora questo cardinale un giorno doveva confessare dei vescovi, insomma quelli di grado inferiore. Allora ne è tutto sura, maria, e se ne è da mesi dia, doveva confessare. Si mette diciamo sulla sedia e cominciano ad arrivare i vescovi e ti assolvo, ti assolvo, ti assolvo, ti assolvo. Da tutti gli stessi vescovi, vorrei dire, ne arriva uno che era pure della sua parrocchia. Che dici? Allora che appena si vieno, wow, sgabati, sbabati, tutto il tempo a mungioneare. Per davanti, per davanti, allora il vescovo, che non c'è un nico, lo sapete oggi i cardinale, quelli cocci di anelletanti, che dè nel rosso, ci afferrava, ma no, cardinale ci fa, santità, ci fa, per rompere il ghiaccio, santità, ci fa, che bedani, adu, se vuoto vedere ci fa, un bedani diventa ricchi di stessi, solo con mi fanno merdere.